Siamo qui alla fiera di costruire di Longarone e nel nostro stand siamo presenti in questa fiera dal 1981 e è arrivata questa semplice e splendida idea di pubblicare in questa emittente sia il nostro operato, la nostra azienda noi trattiamo pavimenti dal 1980, è un'azienda situata in via Feltrina 9 a Pederoba e esponiamo tutto quello che riguarda il pavimento in legno tradizionale in rovere, piallato, spazzolato, trattato in tavole, poi trattiamo il laminato, trattiamo le piastrelle siamo concessionari di tre importanti aziende, l'Atras Concord che produce pavimenti in gress, la Casa Grande Padana la stessa cosa e la Profil Legno, pavimenti in legno. Ci siamo specializzati con queste aziende a mettere nel mercato dei prodotti di qualità non importati ma dimitterli rigorosamente che abbiano delle attitudini per qualità e soprattutto per solidità ma noi ci mettiamo anche un po' la nostra passione per comunicare che il pavimento non è solo il colore non è solo la praticità, non è solo la durezza ma è anche l'accostamento di colori e anche trovare all'interno di una casa trovare quegli abbinamenti che personalizziamo in base alla nostra esperienza e cerchiamo con il cliente di vedere non solo far vedere solo nel nostro showroom ma anche quando ci dà la possibilità di entrare a casa sua e di dare un nostro consiglio con gli installatori per realizzare al meglio quelle che sono le pareti per realizzare il pavimento e perché no anche gli abbinamenti di colore e le qualità. La Fiera di Longarone ci ospita da molti anni e in questa edizione ci ha dato la possibilità di fare dei convegni, di poter spiegare il nostro prodotto ma anche di creare un evento come quello di oggi in cui assieme a Vanzini Selezioni abbiamo fatto degustare il loro prosecco ci siamo divertiti, siamo stati vicini a tante persone che non conoscevamo e in poche parole non abbiamo parlato tanto di materiali, non abbiamo parlato tanto di pavimenti o di prodotti ma abbiamo stretto tante mani e tanti sorrisi con persone che sono passate in questo corridoio che hanno bevuto questo prosecco e abbiamo familiarizzato con gli operatori della fiera col presidente, con tutte le persone e gli organizzatori e si è creato per la prima volta proprio una familiarità. Credo che il successo di questa audizione è la familiarità con gli operatori ringraziamo Valdo TV per aver si dato questa possibilità e vi invitiamo a venire da noi nel nostro showroom anche semplicemente per bere un prosecco, per fare un brindisi o anche solo per visitarlo. Grazie